Musica Stadio Marco Tomaselli di Pian del Lago a Taltanissetta è la prima di campionato si affrontano Sport Club Nissa e Terra Nova Gela campionato di eccellenza a Gironi a Sicilia fuorigioco non è atteso di gol all'unico annullato ma di fuorigioco attenzione, attenzione calcio di rigore quinto della ripresa e calcio di rigore per la Nissa sul dischetto Luca Strano Nissa in vantaggio segna Luca Strano Dello stadio Marco Tomaselli in Pian del Lago a Taltanissetta la Nissa esordisce favorevolmente battendo il Terra Nova Gela nel campionato di eccellenza a Gironi a Sicilia bravo Calvario bravo Calvario bravo Calvario bravo Calvario bravo 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 Grazie.